Iniziamo con una talk molto interessante sul prendersi del tempo per sé. Chiamo sul palco Elena Zanoni. Ciao a tutti, buona giornata, buon sabato. Io sono Elena Zanoni e mi occupo di formazione e consulenza per le aziende in ambito risorse umane. Quindi quello che io faccio da 18 anni è tenere corsi di formazione sulle competenze trasversali e su quello che fa lavorare meglio le persone in squadra. Soprattutto quando le persone arrivano da aree e funzioni diverse dell'azienda. Oggi vi parlerò appunto del periodo sabbatico che mi sono regalata l'anno scorso e che appunto mi ha visto all'estero sei mesi e attualmente è ancora in corso. Sono in Italia da cinque. Partiamo da una domanda amletica. Ci sentiamo un po' più free o un po' più lens? C'è la DHL, il nostro simbolo del freelance camp, che ci invita un po' a questo equilibrio. Anni fa quando mi chiedevano, ma tu come vivi il tuo essere freelance? Visto che è già 18 anni che lo fai e comunque è una certa esperienza, rispondevo, ma mi sento più lens e poco free. Nel senso che mi sentivo molto lancia, molto sul pezzo, molto sempre in cerca di stimoli, di approfondimenti, che è la cosa bella del nostro lavoro. Quindi il fatto di poterci aggiornare continuamente, ma mi sentivo anche ingabbiata in tutte quelle costruzioni di cui parliamo spesso, che derivano dal fatto dei pagamenti dilazionati o dal fatto che bisogna rincorrere i nostri clienti per farci dare le informazioni o altre cose che tutti sappiamo benissimo. Quindi c'è un lato lens che un po' affatica il nostro lavoro. C'è però un lato free, che noi ci giochiamo tutti i giorni e che spesso appunto viene anche condiviso qua nei freelance camp, che ci dà qualche possibilità in più. Si parte dalla mattina quando decidiamo se vestirci bene o se arrivare col pigiamone alla schivania, si continua col decidere quali clienti scegliere e quali clienti no, col tempo diventa più facile di no ai clienti che non ci piacciono, e si parla anche di gestione dell'agenda. Quindi anche l'agenda è importante, diventa una cosa sulla quale noi possiamo fare leva per sentirci un po' più free e un pochino meno ingabbiati dalle altre cose. Il mio intervento si inserisce proprio in questo ambito, cioè nell'ambito free che noi possiamo giocarci tutti i giorni. Quindi andiamo a vedere un ipotetico viaggio, un ipotetico journey map del nostro freelance che decide di fare un sabbatico, quindi chiamiamolo il nostro subbalancer. Quindi andiamo a vedere un po' di touch point, il nostro subbalancer. Praticamente la scelta di fare un sabbatico non è una scelta che in genere si prende improvvisamente, è una scelta che matura nel tempo e che può toccare diverse fasi. La prima fase in genere, quando la persona, il freelance, si sente un po' costretto in tempi stretti o in questa lotta contro il tempo, decide magari di dedicarsi dei momenti per sé. Il primo in genere ci vede cercare momenti di gruppo, quindi potrebbero essere il pilates o lo yoga o il calcetto per i nostri colleghi maschi. Quindi si cerca l'accompagnia perché ci sente un po' questo senso di solitudine che ci accompagna durante il giorno. Se nel mio caso, per esempio, io spesso ho dei rientri molto ritardati la sera, ho dei clienti che mi fissano delle giornate il giovedì, molto spesso questo touch point salta. Allora, parlando con le nostre amiche, magari c'è qualcuno che ha letto il Miracle Morning, ci dice guarda che è il mattino che è importante. Quindi cerca di ricavarti delle mattinate, delle sessioni di mindfulness, il mattino perché ti cambierà la vita. Quindi noi ci dedichiamo assolutamente al sole, stiamo un pochino meglio per un po'. Io di solito mi alzo molto spesso al mattino, presto, perché ho clienti che stanno a 200 km di distanza da me, quindi anche questo touch point per me non si è rivelato, se non in estate, il migliore. Cosa succede allora? Si ricorre ai piedi luviserari con il sale dell'Himalaya, perché è quello che ci dà più effetti, però al massimo 20 minuti, se no ti drena troppo, quindi non puoi neanche stare troppo in relax più di tanto. Anche in questo caso ha funzionato per un po', dopodiché a questo punto il sub-balancer potrebbe decidere, senti sai che c'è? Mi porto anche Romeo in ufficio, quindi ci mettiamo il materassino sotto la schivania, ci fa sentire un po' più in compagnia e cerchiamo ancora di ritrovare quell'equilibrio e quel benessere al quale noi tutti aspiriamo. Se non funziona, c'è l'amico che ci consiglia quattro ore alla settimana, un libro che ha cambiato la vita a moltissime persone, ho sentito. Quindi la filosofia di questo libro dice che durante la settimana, che se tu ottimizzi una serie di cose, ti puoi ricavare una serie di spazi di tempo. Il sub-balancer che è, come sapete benissimo, corre dietro gli impegni, è sempre molto sfilacciato a questo punto di vista, cosa fa? Si ricava il venerdì, lo short Friday, il venerdì pomeriggio e di solito il venerdì pomeriggio, se voi andate a vedere sui profili dei freelance, ci sono piedini in piscina, pullula, cioè il social che pullula di piedi dei freelancer, il venerdì pomeriggio. Allora, tutta questa roba qua può funzionare benissimo, ci sono persone che io conosco che in questa ricerca di equilibrio hanno trovato il loro touch point vincente e stanno veramente andando forti, non penserebbero minimamente a scegliere un sabbatico in questo periodo. Per me non è stato così, per cui a un certo punto ho deciso di ricavarmi un'altra strada, un'altra via, di scegliere qualcosa di diverso, quindi di staccare. Quello che a me ha aiutato nel 2016 a organizzare meglio questo periodo è stata una dritta che ho ricevuto da Cpb, dalla Francesca Marano, che a un certo punto dice guardate che c'è una newsletter incredibile, Super Good Life, andatela a leggere perché funziona, c'è un sacco di roba interessanti. E guarda caso, hai un metro di espressione laterale, uno. E guarda, va bene così, così? Ok. E guarda caso, e guarda caso, ho trovato proprio... e guarda caso, non a caso probabilmente, ho incontrato un articolo molto interessante che vi consiglio di andare a cercare, che si chiama Alternativa all'anno sabbatico, il mese sabbatico, perché la cosa interessante in effetti è che nessuno ci obbliga a andare via sei mesi o un anno, ma si può anche ricavare un periodo un po' più corto. E questa newsletter, Super Matt, dà un sacco di indicazioni interessanti da questo punto di vista. Vi consiglio di andarla a cercare. Allora, vediamo un attimino, un pochino più da vicino, il mio sabbatico periodo. Sono partita a luglio dell'anno scorso da Verona, e tuttora vivo lì, e si sta concludendo, in questo momento mi trovo là dove c'è la pallina rossa. Da Verona sono stata tre mesi a Dublino, sono rientrata a fine settembre per tre settimane, sono ripartita per Sydney, e ci sono stata tre mesi. Sono tornata a gennaio 2019. L'idea era quella di prendermi giusto un mese per rientrare un attimino e ricominciare a lavorare, poi sono successe delle cose e ho deciso, ho dovuto anche un po' forzatamente allungare il periodo di inattività, diciamo così, di distacco dal lavoro. Ma di fatto, poi si è rivelato anche interessante e anche utile. Quindi, sono da Verona da cinque mesi. Quindi lo schema che io ho scelto è il 333 più 5. Questa cosa del 3 a me piace perché mi richiamava anche un po' il film di Troisi, ricomincio da 3. Non si ricomincia mai da zero, non è vero che cominciamo da zero, c'è sempre qualcosa che noi ci portiamo dietro e che può essere rimesso in gioco, ma noi abbiamo sempre una partenza. E quindi questo discorso del 3 a me piaceva molto. Andiamo a vedere allora cosa è successo in questo periodo. Spoiler! Oddio! È diverso dal... Ok, spoiler! Si è arrabbiato? Eccolo qua? Va bene. Spoiler! Ok! È uno screenshot di un messaggio che mi ha mandato mia cugina mentre ero a Sydney. è una cugina che vedo molto volentieri, ci vediamo poco e devo dire che io ai miei parenti avevo detto la famiglia allargata che sarei partita ma non avevo detto bene per che cosa. Quindi mia cugina mi scrive cosa fai lì cugina? E io rispondo sabbatical. E lei risponde what's sabbatical? E io rispondo un periodo sabbatico, cugi. E questa è una cosa che ritorna nel mio stile comunicativo c'è una comunicazione per quanto riguarda la mia vita privata molto ermetico. Quindi questo è interessante perché lei mi chiede cos'è il sabbatical e io dico è un sabbatico, è molto chiaro. È ovvio, c'è chi non lo sa. E le faccio anche la faccina così. Di fatto andiamo a vedere allora che cos'è. Santa pazienza. Cos'è il sabbatical? What's sabbatical? Allora, questa è una sessione che sembra un po' inutile. In realtà è fondamentale, ci aiuta a creare il mindset del sabbalancer. ecco, la dinamica, ok. Grazie. Allora, quando noi pensiamo a un sabbatico, che bello se è andato in sabbatico, pensiamo a sta roba qua. Più o meno è questo, spiaggia, granita, mojito, quello che è, distese bellissime, piedi all'orizzonte, eccetera, eccetera. Quindi, nell'immaginario collettivo c'è questa idea che il sabbatico sia un periodo di inattività totale. Non è esattamente così, c'è anche questo, ma adesso vedremo, c'è dell'altro. In realtà, il termine sabbatico deriva dal termine shabbat, dall'ebraico shabbat che significa sabato, settimo giorno, che cadeva all'epoca appunto, di sabato all'epoca, anche adesso, voglio dire, per loro, comunque. Di fatto, il settimo giorno è il sabato, è il giorno del riposo, il giorno dello smettere, quindi significa smettere, to rest, to cease, cessare qualcosa. Nella legge ebraica, alle persone, appunto, era vietato lavorare, fare qualsiasi cosa di tipo produttivo, quindi attività agricole, domestiche, viaggiare e guidare, o attività legate anche all'agricoltura. Era un giorno da dedicare a qualcosa di più alto, quindi alle letture, si poteva visitare un amico, ma semplicemente andando a piedi a visitarlo senza guidare, si poteva appunto dedicarsi proprio a leggere, non si poteva scrivere, per esempio. Da questo termine deriva anche anno sabbatico, perché il termine shabbat contiene il numero 7 e cosa succede nella cultura ebraica, nella legge ebraica? Ogni sette anni, secondo la Torah, bisognava lasciare riposare le terre in modo che potessero ritornare a essere più produttive negli anni successivi. quindi era un periodo di rest da tutte le attività agricole in modo che le terre riposassero. L'altra cosa interessante è che si lasciavano liberi gli schiavi e si condonavano i debiti, quindi era un anno zero della contabilità. Nella parola shabbat c'è anche il termine di release, di rilasciare. Cosa ci portiamo da questa cosa ai nostri giorni? Ci portiamo il discorso dell'anno sabbatico ogni sette anni, spesso noi lo associamo a figure accademiche, quindi all'università o a figure apicali delle aziende in realtà c'è un'evoluzione da questo punto di vista nelle nostre aziende attualmente. Ci sono aziende come Patagonia che consigliano ai propri, che lasciano la possibilità ai propri dipendenti di andare per due mesi all'estero e poter godere di un periodo di sabbatico ma come? Facendo volontariato ad esempio in un'azienda o un'associazione che si occupa di ambientalismo. La Boston Consulting permette la stessa cosa se ai propri consulenti permette di andare a tenere dei corsi di formazione nelle scuole primarie. Quindi è sia un periodo di sosta dalla propria azienda ma dove tu devi fare dell'altro e probabilmente questo altro ha a che fare con qualcosa di più alto che aspira a dei valori anche più alti o aspira a delle tue passioni e dei tuoi desideri. Quindi a proposito di hashtag andiamo a vedere che il sabbatico non è è per lavoro. Quando sono tornata? Non è per lavoro sabbatico. Quando sono tornata tra l'altro a Torino al Wordpress di Torino un ragazzo mi dice sai Elena ti ho seguito sui social bello anch'io lo voglio fare. Io sono siciliano ho i nonni della Sicilia adesso vado lì col mio computer lavoro sulla terrazza con i limoni bellissimo. Dico guarda è bellissimo sicuramente ti fa bene fa parte del lato free del nostro lavoro ma non è sabbatico perché sabbatico vuol dire lasciar fuori le attività produttive le scadenze che qualcuno ti impone dall'esterno. Allo stesso tempo non è nomade digitale fenomeno molto interessante molti ragazzi soprattutto millennials vanno all'estero e riescono a lavorare da sedi bellissime come Bali Thailandia ultimamente parlavo con un ragazzo usano un'app che si chiama nomadlist.com mappa una serie di città c'è scritto e lì ti dice se c'è una buona connessione wifi se c'è vuol dire che sono già fuori tempo? Ah ok ti dice com'è la connessione wifi se ci si diverte Verona per esempio ha uno scoring di divertimento bassissimo io vengo da lì di notte è rosso il semaforo però ecco è interessante andate a vederla potete trovare dei posti con il wifi e lavorate da lì questo ragazzo ha una start up su in Olanda fanno gelati vegani lui lavora da Rotterdam e non ha un ufficio lavora utilizzando questa app non è remitaggio ci sarà qualcuno che sceglierà lo sabbatico per staccare da tutto e per non vedere nessuno ma di fatto il bello del sabbatico è incontrare persone e fare relazioni ovviamente non obbligate ma comunque è un po' nella radice del sabbatico incontrare persone interessanti magari che fanno cose meglio di noi downshifting chi si ricorda Simone Perotti 2008 è un sogno quello di scalare la marcia e dedicarsi a una vita un pochino più umana un po' più naturale questa persona ha scritto un libro lasciare il lavoro una roba del genere nel 2008 ha lasciato un'azienda molto grande lui era un super manager a un certo punto nella Tiburtina guarda caso mannaggia te l'immortaccio così decide rimane bloccato dentro al traffico decide di fermarsi e dire basta questa non è la mia vita voglio dell'altro ci impiegherà 8 anni a pianificare la sua uscita dall'azienda e con quello che metterà via in quel periodo e la buona uscita lui dice io sapevo di poter vivere fino a 70 e qualcosa anni una roba del genere quindi pianifica tutto in modo da poter uscire e fare una vita diversa ovviamente il downshifting è un'altra cosa non è sabbatico sabbatico è un periodo ben definito determinato dal punto di vista dell'inizio e della fine non è vacanza ne parleremo dopo non è il periodo di vacanza la vacanza è proprio lasciare tutto non fare niente rilassarsi e non è neanche mollo tutto vado via domani è qualcosa che si pianifica col tempo che va veramente progettata con attenzione che cos'è allora invece sabbatico è crescita personale riorganizzazione riorganizzazione del sé sicuramente il lavoro su di sé è molto importante è esplorazione di nuovi mondi interruth partner che vuol dire staccare dalle abitudini solite per trovare altri ambienti che ci portino a prendere nuove abitudini e anche ricaricare le pile ed è alla ricerca del mio passo questo è un po' l'hashtag che io ho coniato per il mio sabbatico e adesso vi spiego da dove deriva qui siamo a Dublino davanti alla huge lane Dublin gallery passando ho notato questa artwork in led è un led work e è interessante perché è un po' ipnotico no? adesso se parte non parte parte eccolo qua da qui è venuta un po' la metafora del cercare il mio passo mi sembrava molto un passo molto elegante un passo molto rilassato definito e da lì ho pensato ecco questo sarebbe un po' l'ideale di sabbatico per me quindi una ricerca del proprio passo soprattutto io quando ho iniziato a fare il pensiero di dedicarmi a questo periodo dove volevo proprio che volevo soprattutto ritrovare i miei tempi non avere nessuno che mi desse delle scadenze all'esterno potevo essere anche molto impegnata in alcune attività ma non volevo che queste attività fossero determinate da scadenze esterne quindi le tre fasi che ho attraversato sono queste la preparazione il sabbatico all'estero e quindi poi il rientro il sabbatico in Italia le vediamo una per una spoiler Elena Bobbola l'anno scorso in vista del freelance camp Roma prima del suo speech sulle slide come tenere delle ottime slide dice come ti vedi fra cinque anni e fra venti era la domanda dell'intervista tra cinque anni mi vedo in un anno sabbatico per ricare le cari e le pile girare il freelance è stancante e tra venti totalmente nomade digitale a fare presentazioni connesse con il mondo da Cuba o da Buenos Aires qui c'è un po' il succo del discorso per preparare bene un freelance bisogna scusate un sabbatico bisogna pensarci con grande anticipo quindi la preparazione è fondamentale ci sono alcuni momenti clou prendo spunto dagli antichi sempre dalla legge ebraica il sabbatico in realtà inizia il venerdì inizia il tramonto del venerdì non inizia il sabato mattina e si conclude il tramonto del sabato finite tutte le attività del venerdì nella famiglia ebraica cosa fanno? preparano il pane che ha un nome particolare e accendono due luci allora il pane lo possiamo laicizzare metaforicamente con il preparare le scorte l'accendere le luci significa far entrare il divino che è in noi trascendere dalla nostra materia più 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 operativa e introdurre qualcosa di nuovo e di diverso e di pianificarlo con attenzione andiamo a vedere le due fasi una per una partiamo da quella dal fare luce perché regalarsi un anno sabbatico? allora quando soprattutto c'è una persona che dice sono andato in sabbatico e ha una certa età a una certa età si pensa subito a crisi robe strane quindi questa è la locandina di un film che si chiama Sabbatical un fotografo sull'oro di un burnout di un burnout dice dice decide di andare in sabbatico e di prendersi un periodo per sé e alla ricerca di una nuova giovinezza ci sono altri film che richiamano il sabbatico e tutti comunque mettono in evidenza il fatto che c'è un momento di crisi o di stallo o qualcosa che si fa cercare all'esterno tipo anche Giulia Roberts in Mangia Prega e Ama quindi anche quel film richiama un po' questa cosa in effetti anche per me c'è stato questo c'è stato un dare via da qualcosa due anni importanti una fiacchezza lavorativa dovuta al fatto che stavo lavorando tanto ma sentivo una perdita di senso rispetto alla formazione oggi nelle aziende un essere sempre un po' loggata troppo la fine di un ciclo di vita quindi avevo venduto casa a Bologna e stavo andando verso altre altre aree altre zone di vita e il fatto di essere un einander chi è che sa cos'è un einander esatto 29 39 49 l'anno scorso io avevo 49 anni quindi adesso ne ho 50 per me era un periodo importante volevo regalarmi un cinquantesimo anno un po' particolare sapete che i einander sono tendenzialmente portati a fare robe strane più estreme si scrivono le multimaratone si scrivono alle piattaforme di incontri c'è un tasso di c'è un tasso interessante di il brusio deriva dal fatto che e quindi anche per me c'era una ricerca di qualcosa di diverso di nuovo sicuramente c'era anche questo regalarmi qualcosa di speciale voglia di crescere stavo andando verso una voglia di crescere iniettiare roba nuova log ed off log ed off quindi volevo essere connessa ma anche no pensavo che l'inglese fosse importante quindi mi sono dedicata un periodo di studi quello che è stato molto fondamentale e poi volevo agire un po' di talenti con talenti non intendo niente di particolare a me piaceva suonare la chitarra e quindi mi sono portata dietro lo ukulele e ho cercato di bene quanti minuti mi rimangono due? zero a questo punto bisogna pianificare il quando con grande anticipo il dove le piazze sono importanti ad esempio per me da Dublino e Sydney derivano dal fatto che volevo ovviamente un paese anglosassone la Brexit non mi era particolarmente piaciuta quindi ho deciso di non andare in Inghilterra la vostra rete sarà importantissima quanti amici avete dove li avete fare un sopralogo prima se è possibile a chi dirlo questo è importante ditelo alle persone qui volete bene ai vostri colleghi in modo che si possano preparare non tenetelo per voi questo è davvero importante a chi delegare a chi poter affidare le vostre vita e per quanto tempo ovviamente lì dipende da quante risorse avete chiudo con questa delle risorse perché credo sia importante almeno questo vi può dare qualche spunto in più spoiler ah ok no questo è vero ci avete ragione ci avete ragione ci avete ragione occorre un fantaprogetto per far andare veramente bene un sabbatico ci vuole un qualcosa che attinga le vostre attività creative cos'è il fantaprogetto? è un progetto creativo che unisce le tue passioni al luogo sabbatico quindi prendete proprio spunto dai vostri dai gruppi facebook o dalle vostre community per capire quale potrebbe essere il vostro fantaprogetto è un qualcosa di non serio tipo visitare tutti i pub di Dublino se vi piace la birra artigiannale fare interviste alle persone che fanno tessitura aborigina a Sydney so quelle cose lì veramente è un progetto assurdo può essere appunto il ukulele io volevo fare un post su instagram ogni giorno per raccontare quello che facevo fiondarmi dentro tutti gli eventi startup eccetera eccetera andiamo a vedere ok questo lo salto andiamo a vedere i conti Elena ma ce l'hai da parte il doppio delle risorse questo era il mio coach vuol dire che se voi avete i soldi nel materasso come diceva qualcuno ieri dovete avere due materassi di fatto quindi c'è una breve formula quante risorse ci vogliono fate il calcolo dei soldi che spendete ogni mese per n mesi che volete stare via per due perché noi se non lavoriamo a gennaio non avremo i soldi a giugno quando ci pagano più lo stile di vita che voi utilizzerete cosa ho fatto io per potermi permettere questa cosa sicuramente ho risparmiato per tanti anni per fare legna sicuramente ho fatto l'armadio un po' vuoto ho venduto casa e mi sono alleggerita e zavorata di tutta una serie di spese questo non vi dico adesso di vendere la vostra casa assolutamente magari è un'altra cosa fare un saving pluriannale spalmare il sabbatico su due annate lavorative la legge ecco del 22 maggio del 2017 vi permette di recuperare fino a 10.000 euro per soldi spesi in formazione quindi quello che vi posso dire per voi è un consiglio che vi posso dare se vi posso dare un consiglio è quello di come dire spezzare il periodo sabbatico in due anni di non andare via anno zero senza avere niente in rimessa in modo che voi possiate scaricare i soldi e le spese di formazione cioè se voi non avete io per esempio il fatto di essere andata via dopo sei mesi a giugno vuol dire che fino a giugno avevo veramente fatturato un bel gruzzolo e questo mi ha permesso di poter scaricare i soldi della formazione che ho poi utilizzato là ditemi se è chiaro il discorso ok quindi questo è molto interessante fino a 10.000 euro li scaricate nell'anno in corso non dopo 10 anni eccetera eccetera quindi questa è una cosa interessante io direi che a questo punto avete tutte le informazioni per poterlo organizzare abbastanza in modo efficace spero di essere stata utile e a questo punto vi saluto grazie grazie Elena grazie a tutti